Ed è accostato un'altra giornata di pioggia e sole. Come tutta la provincia di Biella ovviamente siamo ormai abituati ad acquazzoni continui, bombe d'acqua, fiumi di fango eccetera eccetera ma oggi per la prima volta posso dire di essere riuscito a farvi una previsione del tempo alla luce del sole che già non è male. E allora per la prima volta vi posso far vedere come le nuvole che hanno appena scaricato ennesimamente acqua sulle nostre carissime terre che ormai sono zuppe adesso si stiano stranamente di leguando e lasciano a posto questo sole che ora acceccherà le corne di molti. Ecco vedete come ovviamente ci sono ancora i segni della battaglia, tutto ancora bagnato ma ormai a Biella questa è più un'abitudine che un qualcosa di diverso dal normale. Vedete il mio lauro che ovviamente è da tagliare e quindi per la prima volta per me è un onore poter dire a tutti voi magari questa sera non piove. Da Federico Saviolo, Meteo Channel, il canale che unisce l'inutile al forse forse dilettevole. Buonasera e alle prossime previsioni meteo.